Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti, che tu mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne. Nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà, così posso restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fruttus venetris tui Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Da Libro di Cielo, volume 32, 2 settembre 1933. Canali, commercio tra il cielo e la terra, traffici dell'anima che vive nella Divina Volontà, gara d'amore tra creatura e creatore. Sono sempre il piccolo atomo nel volere divino, neonata appena, e sento l'estremo bisogno di essere alimentata e cresciuta nelle sue braccia paterne, altrimenti sorge in me il volere umano per formare la sua vita infelice. Mio Dio, abbi pietà di me e non permettere che io conosca né acquisti altra vita se non quella della Divina Volontà. e sentendomi afflitta, oppressa, per le quasi continue privazioni del mio dolce Gesù, che mi tengono sacrificata sul rogo di un dolore che solo Dio è testimone di un martirio così duro, quindi avevo timore che il mio infelice volere umano me ne facesse qualche tiro ed il mio amato Gesù, per infondermi coraggio, sostenendomi nelle sue braccia, che non ne potevo più, mi ha detto figlia mia benedetta, coraggio, sbandisci dal tuo cuore ogni timore. Questa è l'arma che o uscite o ferisce l'amore e fa perdere la familiarità col tuo Gesù. Ed io ne so, ne voglio stare, per chi vuol vivere di mia volontà, senza intimità. È come se non fosse una sola cosa con me. Se ciò fosse, non potrei dire che la volontà che ci anima è una e forma la vita tua e mia, ma dovrei dire tu tieni la tua volontà e io tengo la mia. Ma io non voglio questo, perché il vivere nel mio volere non esisterebbe più in te. Anzi, voglio che in ogni pena che tu soffri sia pure la mia privazione. Ogni cosa che fai di tutto l'essere tuo, chiami sempre la mia volontà, finché tutti gli atti tuoi formino il canale dove essa può trovare la via, il luogo dove racchiudere i suoi beni e farli scorrere in abbondanza a secondo del canale che hai preparato. Ogni atto che tu fai può essere un canale di grazie, di luce, di santità che presti alla mia volontà la quale ti farà proprietare di beni che racchiudono i tuoi atti e ti farà scorrere al bene di tutti. Vedi dunque a che deve servirmi il tuo essere, i tuoi pene, gli atti tuoi. Come tanti canaletti in cui posso sempre mettere del mio, il deporre il mio è per me felicità, è il darmi da fare, è il sentirmi amato e conosciuto. Perciò è tanto il mio desiderio di deporre negli atti della creatura le mie proprietà divine per renderla padrone. Che sto alla spia la faccio da vigile sentinella, uso tutte le mie attenzioni amorose per vedere se gli atti suoi sono vuoti di volere umano e se fa la chiamata alla mia divina volontà. La quale trovando il vuoto negli atti umani se ne serve come canali per deporre in essi le grazie più grandi, le conoscenze più sublimi, la santità che più le somiglia e con ciò forma la dote divina della sua amata creatura. Dopo ciò ha fatto silenzio e poi ha soggiunto con un accento più tenero. Figlia mia, tu devi sapere che per chi vive nella mia divina volontà non c'è tempo da perdere. Non può badare a certe minuzie, a timori, oppressioni, agitazioni, dubbi. Chi tiene da fare il più il meno lo deve mettere da parte. Chi deve prendere il sole e goderselo è necessario che non badi più alle piccole luci e chi possiede il giorno non deve badare alla notte perché il sole è più delle piccole luci e il giorno tiene più valore della notte e se si vuole badare all'uno e all'altro passa pericolo che non goda tutta la pienezza della luce e del sole. Ne faccia tutto ciò che può fare il giorno e può essere che per badare almeno perda il più molto più che la mia divina volontà per chi vi venessa vuol stare sempre in atto di dare e la creatura deve stare sempre in atto di ricevere e se si vuole badare ad altro la mia volontà è costretta a fare le sue soste nel dare perché non la trova attenta nel ricevere ciò che vuol dare e questo è spezzare la corrente divina e se sapessi che significa come staresti attenta oltre a ciò tu devi sapere che come la creatura fa i suoi atti nella mia divina volontà entra nei banchi divini e vi fa i suoi traffici di valore infinito essa siccome viene nel nostro volere sebbene piccola viene da padrone e si fa padrone di ciò che i nostri banchi divini posseggono e prende quanto più può prendere e siccome ciò che prende non può tutto racchiudere dentro di sé li lascia in deposito insieme con i nostri stessi tesori e noi la facciamo fare godiamo dei suoi traffici ed è tanta la nostra bontà che le diamo l'interesse agli acquisti che ha fatto siccome ogni qualvolta preso i suoi atti nel nostro volere apre il commercio tra il cielo e la terra e mette in traffico la nostra santità potenza bontà amore e noi per non restare indietro alla nostra amata creatura essa sale e noi scendiamo nel basso dell'umano volere ed aprendo il nostro commercio facciamo l'acquisto dell'umano volere traffico tanto dono evoluto e gradito e così facciamo a gara e ci conquistiamo a vicenda figlia buona vivere nel nostro volere e non avere essa a che fare con noi e noi con essa né avere che dire né farci sentire ci riesce è impossibile se ciò fosse non sarebbe più vita nostra che svolgiamo nella creatura ma un modo di dire non una realtà la vita sente il bisogno assoluto di muoversi di farsi sentire di respirare di palpitare di parlare di dar calore come si può soffocare una vita stare vivere e non farsi sentire ciò è impossibile a Dio e alla creatura perciò non ti allarmare quando senti che tutto è silenzio in te sono brevi incidenti perché sono io stesso che sento il bisogno di farmi sentire che la mia vita esiste in te stare e non farmi sentire sarebbe il mio più crudo martirio lo posso fare da per poco non per sempre quindi non darti pensiero vivi tutto abbandonato in me ed io ci penserò a tutto bene ci riprendiamo queste nostre quotidiane meditazioni andando avanti con gioia dopo la pausa del sacro triduo pasquale dei riti meravigliosi che tutti quanti avremmo vissuto spero con tanto amore e con grande frutto durante i giorni passati la gioia adesso del giorno di Pasqua come sappiamo si protrae e ci accompagnerà fino a domenica prossima per tutta la meravigliosa settimana in Alvis questa è la grande sapienza della Chiesa che istruita dall'alto ecco ha imparato a a protrarre la gioia delle grandi feste anche diciamo così nei tempi che vanno un pochino oltre no questi giorni delle ottave che prolungano la gioia appunto vissuta nelle grandi solennità ora io vorrei cominciare la meditazione di oggi dalla fine come qualche volta accade perché nella fine c'è un punto essenziale un punto che io personalmente ho interiorizzato e me ne ero fatto una una convinzione è una convinzione un pochino particolare perché nel corso della storia della Chiesa è certamente successo basti pensare ad esempio a una Santa Teresa di Calcutta ma anche alla stessa Teresa Davide insomma di anime che sono state anche per anni in stato di aridità spirituale che significa stare in stato di aridità spirituale significa che tu non senti proprio niente significa che perché vai avanti nel cammino proprio a per forza di pura buona volontà non avverti la presenza del Signore non avverti consolazioni non avverti la sua presenza quindi non 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 riesci ad entrare facilmente in contatto con lui in dialogo con lui eccetera 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 queste sono esperienze che sono conosciute in ascetica e ovviamente si dice anche che la fedeltà dell'anima che nonostante questa situazione continui a fare la propria vita cristiana la propria vita di preghiera eccetera gli procura immensi meriti dinanzi all'altissimo così era così è e così sempre sarà ora è chiaro che anche perché vive nella divina volontà ogni tanto nostro Signore lo faceva anche con Luisa fa qualche piccolo istante di blackout perché ci fa bene però attenzione è qualche piccolo istante a quello che è dato di capire e adesso rileggerò alcune cose ma a quello anche che io ho avuto modo di di percepire sapete noi non possiamo mai fidarci troppo delle nostre esperienze di vita delle nostre percezioni soggettive perché appunto possono essere un caso possono essere un fatto del tutto personale non si può fare ordinariamente da una esperienza vissuta una norma universale o una legge universale però personalmente a prescindere dalla mia vicenda esistenziale personale mi sembrava molto strano che vivendo nel divin volere la persona stessa in uno stato come dire di 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 aridità di 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 tiepidezza di quelle cose che poi se non sono vissute con grande fede portano la vita il tenore della vita spirituale a a indebolirsi no? quindi a scadere a a gradualmente andare verso la la tiepidezza no? o la o la mediocrità ecco perché comincia dalla fine cosa dice Gesù proprio nell'ultimo capoverso non ti allarmare quando senti che tutto è silenzio in te sono brevi incidenti dice lui eh perché io stesso sento il bisogno di farmi sentire che la mia vita esiste in te cioè io sento il bisogno di farmi sentire che la mia vita esiste in te non cioè la mia vita esiste in te basta che lo so io tu non ti preoccupare vai avanti no no sento il bisogno di farmi sentire cioè di darti in qualche modo un segno tangibile tangibile sensibile sentire una cosa che si sente vuol dire che è oggetto di percezione sensibile no sensibile certamente questo non è un sensibile al modo dei sensi esterni no non è che tu vedi senti che ti parla Gesù con una voce come la mia adesso o che lo vedi no ma è quella cosa che si è persa attraverso i sensi interni come dicono i maestri di spirito e che caratterizza le varie diciamo così modalità di manifestazione del Signore che ha nell'orazione quindi le consolazioni i tocchi quelle sensazioni magnifiche di sentirsi amati di dolcezza infinita le lacrime Gesù dice stare e non farmi sentire sarebbe il mio più crudo martirio non è che che non vuole più martirizzarci perché per chi ha conosciuto Gesù stare lontano da lui è il martirio più grande che esista ma non vuole nemmeno martirizzarsi perché dice che un martirio è anche per lui lo dice lui io non mi permetterei mai di dire una cosa di questo genere ripeto cito stare e non farmi sentire sarebbe il mio più crudo martirio lo posso fare per poco ma non per sempre è bellissima la conclusione non darti pensiero come dicono a Napoli sta senza pensiero vivi tutta abbandonata in me tutta abbandonata in me non si parlerà mai abbastanza non si mediterà mai abbastanza dell'importanza dell'abbandono lui e ci penso io a tutti a tutto nel passaggio precedente Gesù dice addirittura rafforza ancora di più la conclusione per certi aspetti vivere nel nostro volere e il fatto che la creatura non abbia a che fare con noi e noi con essa non avere da dire né farci sentire attenzione qui in noi è con la L maiuscola quindi in noi è scritta Santissima Trinità ci riesce impossibile anche qui C è con la C maiuscola Gesù sta parlando a nome della Santissima Trinità vivere nel nostro volere sappiamo bene che la volontà speriamo bene della Santissima Trinità è una sola no? ecco quindi mi raccomando ecco quindi Gesù può parlare tranquillamente in questo modo dice ci riesce impossibile cioè è impossibile se una persona vive nel nostro volere che noi non le parliamo che noi non ci facciamo sentire e che noi viviamo una vita insieme lei con noi e noi con essa dice perché se così non fosse ma questa non sarebbe una realtà una vita che noi svolgiamo nella creatura ma un modo di dire un simbolo una metafora un'immagine ma qui non si tratta di simboli di metafora e di immagine certo è vero che noi non possiamo lasciare come dire l'ultimo parametro diciamo così di valutazione di una realtà così grande come vivere nella divina volontà a quello che sentiamo sarebbe insufficiente però ripeto Gesù dice che è impossibile che si viva nella divina volontà e si senta mai niente cioè è che tu vivi fondamentalmente il tuo rapporto con Dio come quasi tutti quanti battezzati quasi tutti come se fosse un perfetto sconosciuto un perfetto estraneo questo non è possibile non è possibile cioè se questo c'è vuol dire che la vita nella divina volontà ancora in noi non sorge stiamo ancora nella come dire nella vita comune anche dei buoni cristiani che magari cercano di fare un cammino di santificazione stringono un pochino la vita di preghiera di sacramenti ma per carità già cosa questa viva Dio bellissime magari tutti quanti la facessero ma ancora non si è varcata questa mistica e divina soglia sempre andando indietro stavolta facciamo facciamo la meditazione a gambero in un altro capoverso Gesù dice queste parole molto più che la mia divina volontà perché vive in essa vuole stare sempre in atto di dare sempre in atto di dare come tante volte già detto questa cosa è una prima anticipazione della vita beata del paradiso quando noi staremo in paradiso amici cari cioè lì ce lo siamo già detti tante volte tutti non vediamo l'ora ma lì è un continuo non si sta neanche un istante senza qualche nuova invenzione qualche nuova trovata da parte dell'altissimo che beatifica e letifica la creatura con qualche è un nuovo diletto un nuovo piacere un nuovo tocco una nuova sua invenzione che per ora ce le possiamo soltanto immaginare ma è così la vita del paradiso è così e quella sorgente tante volte vi siamo detti non solo che è inesauribile ma istante dopo istante da diletti cioè felicità sempre nuove cioè avete visto no quel desiderio che noi abbiamo ce l'abbiamo anche qui no cioè che una cosa appena vista appena goduta si ci ha già un po' stancato nel senso che si riviverla e rivederla va bene ma ormai lo so quindi l'ideale sarebbe che ci fosse sempre qualche cosa di nuovo no tutti viviamo questo credo eh ma questo è certamente una spia di quello per cui siamo stati creati perché così sarà quindi noi sempre in atto di dare e la creatura sempre in atto di ricevere questa cosa cessa solo se la creatura si distrae quindi comincia a pensare ad altro non sta in atteggiamento di chiamare la divina volontà nei suoi atti questo è un po' il tema della meditazione di oggi no quindi fare attenzione a a chi a a non perdere tante fonti di grazie dimenticando di di chiamare la divina volontà nei nostri atti e smettendo di fare attenzione no quindi la mia divina volontà fa delle soste nel suo dare solo quando non la trova attenta nel ricevere ciò che vuol dare cioè questo è spezzare la corrente divina e Gesù aggiunge se sapessi che significa che tragedia che è non credo che molti di noi lo sanno io nemmeno mi rendo perfettamente conto anzi me ne rendo conto ben poco staresti molto attenta a fare in modo che questo non accada mai ancora sempre risalendo su col passo del gambero dice Gesù un'altra frase molto importante per chi vive nella mia divina volontà non c'è tempo da perdere e non deve non può non deve badare a minuzzi timore o questione agitazione dubbi se tu c'hai il sole e te ne devi occupare ma che che te metti a sta pressa alle candele alle torce alle lampadine che ci fai c'hai il sole c'hai il giorno e che te metti a badare la notte capiamo sempre fuori di metafora questo che significa no quindi che la cura di questa vita quindi con quell'attenzione attenzione ovviamente amici attenzione sempre calma attenzione non vuol dire tensione mi si perdono un gioco di parole che spero però sia abbastanza esplicito attenzione non vuol dire tensione ad uno sta l'ansia no che no quindi c'è un'attenzione perché se non facciamo attenzione non facciamo gli atti perdiamo la connessione eccetera no però però l'attenzione sì l'attenzione no ma l'attenzione sì altrimenti interrompiamo questa corrente divina come Gesù ci ha spiegato no allora adesso facciamo una un passo all'indietro un po' più lungo torniamo all'inizio proprio al prequel e andiamo a vedere qualche altra suggestione che deriva dalla prima parte della meditazione no dice che Luisa in questo contesto che sente sempre il bisogno di essere alimentata dalle braccia paterne di di volere per evitare che specificare sorga in me il volere umano per formare la sua vita infelice non mentiremo mai abbastanza credo su questo particolare chi vive di proprio volere umano forma forma genera infelicità capite che significa cioè capiamo che significa è una macchina è una macchina che produce hai visto come sono le fabbriche i cicli di di produzione se io comincio a fare di testa mia e questo magari lo vediamo io purtroppo voglio qualche volta lo vedo quando quando diamo vita al nostro volere umano o perdendo la connessione con la volontà divina sentiamo che sorge una passione supponiamo il nervosismo l'impazienza che succede si cominciano poi in generale degli atti e qual è il salario di di quegli atti è l'infelicità hai perso la gioia hai perso un po' di pace magari l'hai fatta per le buracchette stantorno tutta la nostra attenzione dovrebbe dovrebbe fare in modo che quando sentiamo il nostro io la nostra volontà umana che vuole che vuole nascere e vuole in qualche modo avere il suo spazio come si dice oggi io devo avere i miei spazi ma tu devi avere nessuno spazio degli anni a casa tua degli anni perché appena lasciamo fare questa cosa qui ripeto io qui non parlo da da maestro dall'alto di una torre da cui queste cose ahimè non mi dovessero riguardare no purtroppo non è così però quando quando dice sorge il merito romano per formare in me la sua vita infelice questa è sacra santissima verità vedete nella prima parte quando poi Gesù interviene raccomandando di sbandire dal cuore il timore eccetera eccetera perché il timore vedete uccide o ferisce l'amore fa perdere la familiarità con il tuo Gesù no qui sembra l'ego dell'apostolo dell'amore di San Giovanni che lo sentiremo molto in questo tempo di Pasqua no c'è l'amore perfetto vince il timore chi teme non è perfetto nell'amore no e sentite che dice Gesù io ne so ne voglio stare per chi vuol vivere di mia volontà senza intimità il rapporto personale intimo con Gesù quante volte ce lo siamo detto e ridetto siccome lui non vuole stare per chi vive di mia volontà senza intimità ne consegue chiaramente che chi intimità con Gesù non sa nemmeno cosa sia non l'ha mai sentita o la sente molto poca proseguite o proseguono gli ascoltatori no la conseguenza è ovvia e a riguardo Gesù dice guarda che io voglio che anche le pene che soffri anche la mia privazione ogni cosa che fai di tutto l'essere tu chiami sempre la mia volontà affinché tutti gli atti tutti tuoi tutti gli atti tuoi formino il canale di dove essi può trovare via e che cosa succede che se trova via se trova via ogni atto che fai diventa un canale di grazie di luce e di santità che presti la mia volontà la quale ti farà proprietare dei beni che racchiudono i tuoi atti e li farà scorrere a bene di tutti ciò che vive nella divina volontà forma un patrimonio di beni grazie luce e santità per sé ma anche per tutti adesso sono un fatto personale privato ancora se si aprono questi canaletti che succede che Gesù vuole deporre dice lui deporre in questi canaletti tutti quanti questi beni e aggiunge il deporre il mio dice lui è per me con la M maiuscola felicità è il darmi da fare è il sentirmi amato e conosciuto perché certo perché se Gesù si fa sentire e si fa conoscere sarà certamente amato non si può non amare l'amore chi non ama Gesù è perché ancora non lo conosce ma chi non lo conosce è perché non si dispone a conoscerlo perché lui certamente è ben felice di farsi conoscere vorrebbe ben farsi conoscere da tutti no quindi anche questo è un altro particolare molto bello molto edificante e possiamo concludere anche se non è la conclusione appunto con la conclusione della della prima parte di questa meditazione quando appunto parla di questa deposizione degli atti degli atti divini nelle negli atti umani che chiamano la divina volontà dice Gesù uso tutte le mie attenzioni amorose per vedere se gli atti suoi sono vuoti di umano volere e se fa la chiamata alla mia volontà e quando questo accade quindi che cosa succede trovo il vuoto negli atti umani perché la persona si svuota del proprio volere perché chiama quello divino e io mi servo come canali di questi atti per depurre mesi le grazie più grandi le conoscenze più sublime la santità che più mi somiglia e quindi è conformata la gloria divina alla sua amata creatura ecco questo perché attraverso questa meditazione possiamo riprendere questa è una cosa che ogni tanto dobbiamo riprendere perché non so voi ma purtroppo la natura umana tende sempre a sedersi un po' a sbracarsi un po' può succedere che magari prendiamo qualche buona abitudine in qualche periodo facciamo tanti atti li moltiplichiamo poi magari per qualche circostanza una giornata che è stata un po' complicata con tante sollecitazioni dove uno ha allentato un po' appunto perché incalzato da tanti eventi parlenti un po' un giorno e alla fine perché quel giorno dopo parlenti un altro po' parlenti un altro po' e poi parlenti un altro po' e ti vuoi ritrovare con una giornata dove veramente la vita nella divina notte è stata un pochino striminzita e questo te lo incorrì anche dal fatto che la presenza del Signore è meno intensa meno meno palpabile meno percepibile ecco nella nostra preghiera personale anche al termine della meditazione pregheremo un po' il Signore che ci risvegli se necessario aiuti a riprendere con 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 zelo con buona lena il nostro impegno nel chiamare il divino volere a scorrere in tutti i nostri atti con 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 mentre come sempre ti ringraziamo per queste parole Signore Gesù come detto ti chiediamo la grazia e la forza di perseverare se già stiamo messi bene o di intensificare se stiamo messi benino o di riprendere se stiamo un pochino in crisi o di cominciare se ancora non ci siamo familiarizzati bene con questo mondo appunto a a chiamare la tua volontà nei nostri atti per poterne per poter godere e percepire tutta la bellezza di essi e tutta la bondanza di vita di grazia e di felicità che lasciano in noi e intorno a noi nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del figlio dello spirito santo Fiat Ave Maria